Federico Giannazzo è uno dei compagni di Roberto Santeramo che maggiormente ha seguito la vicenda anche attraverso le pagine Facebook. Sì, io sono quello che pubblica foto sul nostro gruppo Facebook, quello che tra virgolette lo prende maggiormente in giro e si è creata una grandissima amicizia tra me e Roby e niente, sono contento di vederlo qua in mezzo a noi e questo comunque ci ha ancora più unito come gruppo e è bene così, diciamo che è qui con noi e va bene. Facciamo conto che lui sia dall'altra parte come del resto è della camera e prova a parlare con lui, che cosa gli diresti per prenderlo in giro? Per prenderlo in giro gli direi che ce l'avevamo quasi fatta e invece sei ancora qua con noi e va bene, ti prenderò ancora in giro e non finisce qua. Volevamo liberarci lui però è una pellaccia e niente da fare, quindi si dovrà assorbire altri scherzi da qua fino alla fine dell'anno. Mi sembra che lui insomma gradisca i vostri scherzi perché è un burlone, vero? Sì, lui è così, io lo conosco da agosto, si è installato un rapporto bellissimo, sta ai miei scherzi, io sto ai suoi, direi che è un gruppo fantastico, un gruppo fantastico comunque messo in piedi soprattutto da lui e quindi di questo ne ha merito lui.